Dopo la revoca da parte della Regione Abruzzo della gestione delle NAI da parte del club acquatico che aveva prima avuto la gestione temporanea per quattro mesi e poi l'affidamento della gestione per i prossimi 20 anni, il presidente della società pescarese Riccardo Fustinoni ha incontrato la stampa per illustrare la posizione della società, ripercorrendo quanto è accaduto negli ultimi mesi, sottolineando di considerarsi parte lesa nella vicenda. Chiaramente, come abbiamo già detto, l'intento era quello di preservare l'attività degli agonisti prima di tutto e degli utenti che usufruiscono dell'impianto ogni giorno. Questo l'abbiamo detto chiaramente già dalle prime ore in cui c'era stato affidato l'impianto. Il nostro interesse era mantenere aperto l'impianto e ci siamo messi in gioco completamente, anche con dei rischi, perché gestire le NAI non è facile, abbiamo dimostrato che comunque le capacità le abbiamo e le avremo anche in futuro. Purtroppo abbiamo riscontrato quello che secondo noi è stato un attacco a 360 gradi sulle nostre capacità. La regione stessa certamente ci ha spinto in questo, sì, a riaprire subito, ma perché era anche nel contratto. Cioè, non nel contratto, il contratto non è stato sottoscritto chiaramente, quindi non siamo neanche mai entrati nella gestione ventennale, ma ad oggi in realtà noi parliamo ancora di una gestione che è in via d'urgenza per i quattro mesi. Fustinoni ribadisce la bontà dell'operato e il fatto di non aver potuto dimostrare la capacità di gestione messa in atto in altre attività. Il futuro quale sarà dunque? Il futuro non lo so, perché la politica oggi dice una cosa, domani ne dice un'altra. Noi siamo degli operativi, io pago anche le conseguenze del fatto che ci siamo messi alacramente a lavorare per dare risposte all'utenza, agli agonisti, agli ex dipendenti. Però penso che la strada, leggo dai giornali come voi, cioè siete più informati voi di noi. Certo ho rivisto e ho risentito cose che erano già state portate per anni e per anni avanti e che non hanno portato a nulla. Lo svantaggio è proprio ai dipendenti che si volevano tutelare, alle società sportive che si volevano tutelare e ai ragazzi, agli utenti agonisti, a tutti quelli che ci hanno dato fiducia. La politica ha sempre tre o quattro soluzioni e dicono sempre che sono quelle valide. Spero che una venga fuori immediatamente e che possano riaprire subito. Certo che potevano, a mio avviso, lasciare il Trebbacquatico, visto che oggi l'impianto è a norma e noi siamo attivi in tutto e per tutto, anche con qualsiasi tipo di soluzione, ma c'era già un contratto che ad oggi, senza la revoca dell'Area Com era attuale, attivo fino a dicembre, potevano tranquillamente mantenere quello.